Eccoci, benvenuti, benvenuti a tutti Un applauso ci vuole, non per noi, ma per tutti i bambini che stanno partecipando qui in questa primissima edizione di una festa natalizia di tutta la quadra La quadra, come vedete, è una grandissima miglia che abbraccia tantissimi settori e vogliamo partire proprio dall'arte, con la scuola di disegno creativo e allora un bel applauso, facciamolo bene prima intanto, ai nostri artisti che state vedendo qualche loro opera di dietro, ma alcune di queste opere non sono conclude di dietro abbiamo delle opere selezionate, tenete conto che il corso è iniziato da pochissimo 5 lezioni, quindi già sono riusciti a fare veramente tanto tanto e quindi la mostra la resterà aperta durante tutto lo spettacolo e la potrete vedere però intanto li vogliamo conoscere un'altra, ma intanto abbiamo qui gli insegnanti guardate l'articolo di qui, allora Anna Martone, pittrice affermata ha vinto diversi premi ed è un insegnante, quindi applica le sue due competenze insegnare bambini e arte con il successo Anna Martone, che ha lavorato per anni in Rai, ha pubblicato in tutto il mondo e adesso l'ho trascinata un po' qui come mia sorella questa sua esperienza internazionale a Scauri, è veramente un onore averla con noi adesso si presenteranno i bambini, mi basta dicere il vostro nome poi non so se gli insegnanti vogliono dire qualcosa allora, come ti chiami? Aurora 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 Non so se potete dire qualcosa. E mancano? Ah ok, mancano Maria Sofì e Margò che non hanno potuto credo per problemi di salute, quindi l'applauso anche a loro. Vi vogliamo far vedere, poi per tutta la giornata potrete ammirare l'orolo, potrete chiedervi qualcosa, sono stati veramente entrati perché ripeto, è il frutto di solo i quattro riprezzi del corso a Travanti, abbiamo un gruppo di bambini che lavora in questa fascia d'età, o qualche altro bambino ha fatto le lezioni individuali dello studio di La Razzone e quindi, insomma, c'è tanto ancora da fare nel futuro. Allora, potete accomunarvi e assistere al spettacolo e anche tra poco inizierà. Grazie! Ma non vuole dire qualcosa? Grazie. Grazie a tutti.